Ciao a tutti, sono Monica Bellin e vi accolgo a casa mia, dove vivo con i miei quattro figli maschi e un marito e la celiachia, una patologia che mi accompagna da dieci anni e che mi ha dato l'occasione di aprire un blog dove condivido ricette e consigli senza glutine. Siete pronti a cucinare con me gluten free? Venite con me, facciamo la prima ricetta! Non sapete che cos'è la celiachia o malattia celiaca? È un'intoleranza permanente al glutine nei soggetti geneticamente predisposti, non esistono cure, l'unica cura è l'alimentazione e cioè l'eliminazione totale del glutine dalla nostra dieta. Un piccolo consiglio che è l'unico per gestire una cucina senza glutine per gli intolleranti, tre regole fondamentali, pulizia, organizzazione e cura. Siamo arrivati in cucina per preparare la prima nostra torta senza glutine natalizia. Ho scelto di preparare una torta molto scenografica ed è la rovesciata all'arancia. Gli ingredienti che servono sono delle arance biologiche, mi raccomando perché la buccia deve essere edibile, quattro uova, del burro che dopo scioglieremo, lo zucchero, le farine sono il grano saraceno, la farina di riso, la fecola di patate che è un amido e una bustina di lievito senza glutine. Vi raccomando le polveri, quindi le farine e il lievito deve riportare sempre la dicitura senza glutine. Cominciamo a fare il nostro dolce. La prima cosa è preriscaldare il forno a 180 gradi in modalità ventilata, prendere le nostre arance e tagliarle a fettine sottili, io le taglio solitamente un 3 mm di spessore e disporre la carta forno sulla base della nostra tortiera, bagnata e strizzata. Io ho scelto uno stampo da 22-24 cm. Procediamo. Ho scelto di fare l'impasto della nostra torta a mano per farvi vedere proprio la semplicità e la facilità, ma potete scegliere di farla anche con la planetaria, con le fruste elettriche o anche con il frullatore. Andiamo a rompere adesso le uova e le lavoriamo con lo zucchero. Vado a sciogliere il burro al microonde. La ceramica Weissenstall è perfetta sia per andare in lavastoviglie ma anche per andare al microonde. Andiamo ad unire alle uova sbattute con lo zucchero il burro fuso. Uniamo anche il succo e adesso possiamo procedere con le nostre farine. Adesso che il nostro impasto è pronto lo andiamo a versare nella nostra tortiera dove ci sono pronte le nostre fettine di arancia a raggiungere. Non lasciamo mai andare via i nostri ospiti con un piccolo pensierino. A me piace coccolarli con un regalino fatto da me in casa. E ho pensato di abbinare alla nostra torta con le arance dei biscottini agrumati. Pochi semplici ingredienti e zero manualità per realizzare questi biscottini super profumati. Serviranno solo un uovo, farina di mais, farina di riso, fecola di patate o amido di mais è lo stesso, dello zucchero semolato, dello zucchero di canna, del burro sciolto e come grume io ho scelto il limone ma può essere anche un arancia o del mandarino. Ciotola e forchetta. portiamo in tavola il nostro dolce finito. Ecco qui la rovesciata all'arancia spettacolare e ovviamente servita sulla nostra alzata by Sestal, ceramiche perfette per le nostre giornate di festa. Questa è la nuova linea di Natale. Questi sono i nostri biscotti, un profumo incredibile. Ho pensato di regalarli agli ospiti all'interno di una tisaniera. Un abbinamento immancabile per me è l'Amarone Scriani, un sapore ricco e intenso che si abbina perfettamente alla nostra torta. E adesso che il nostro dolce è finito, il regalino per gli ospiti è pronto e la misa in plassa è completa, non ci resta che assaggiare. Aspettando Natale da favola io vi rimando alla prossima puntata, non mancatevi darò un piccolo indizio. Vi raccomando, state con noi. Ciao!